Bella boys, eccoci qui Saxe vi saluta innanzitutto vorrei dirvi che questo video è veramente particolare forse sempre uno dei più belli come dico sempre quindi innanzitutto sfamiamo, togliamoci subito un dubbio ho giocato due giorni con POMAX, è vero l'account in questione è Obi-Wan Kenobi e un mio follower nei giorni successivi seguendo in live POMAX ha visto che rancava con un altro account che infatti si chiamava Obi-Wan Kenobi esattamente scritto con tutti gli spazi e i trattini in questione questo mi rende molto felice perché ho giocato praticamente con tutti i streamer preferiti a partire da Bistard, in più ho giunto anche POMAX quindi sono molto contento in più in questo video vedrete che mi ha ostato in live l'altra sera, l'ultima sera a Teb che è uno dei giocatori migliori in assoluto in Italia Champion, che gioco anche con Shaiko per chi non lo conosce trovate tutti su YouTube quindi vi lascio questo bellissimo video dove infatti la prima clip di Clutch l'ho dedicata ai nuovi iscritti che mi hanno seguito con l'host di Teb e ovviamente a Teb grazie mille boys, bella, ciao grazie a Teb, grazie mille per l'host, troppo gentile, grazie mille bro, gentilissimo non lo so se è veramente il vero Teb, cazzo che seguo anch'io che è quello fortissimo, non lo so però grazie mille bro, se sei veramente te è tanta roba, grazie mille proteggete le bo- aggiungo il mio ospite ma non si credo se te è so serio no però non si credo non si credo ma se è un mostro aggiungo il mio ospite street fuser diffuser è là anche un operatore alleato rimasto there's laying someone, left left why didn't you kill him? why didn't you kill him? ragazzi, questo classio lo dedico a chi non mi conosce ragazzi grazie mille e benvenuti sul mio canale gg non ci sono dove l'altra non lo so è fuori finestra però è individuato non vedo nessuno non vedo nessuno non vedo nessuno un'infinanza generato il drone dove è il drone? perché è individuato? scusa non ti ho registrato qua permettono ultimo nemico no è un caricatore è fuori dalla finestra te l'ho detto terza o sinistra eh non è eh mi sono alla difesa mio dio che cazzo di kill è questa Tommy guarda adesso mi sa che lo sfogo io aggiungo il mio ospite ma non si credo se è preso serio no però non si credo no sei un mostro mi sa' sfogo tre qu�verser strua d'aromore plissi ha rinforzato una parete il nemico ha un disinnescatore scoprirà se rimani in questa zona la squadra d'attacco ha trovato una bomba la squadra d'attacco la squadra d'attacco ultimo nemico rimasto si usa da una zona controllata dal nemico lasciala subito scoprirà fermo tanto tu muori addio lol voleri pushare cogliona ma che porta? ma dove sei? sta plantando ci sei tolto mi sei tolto ci sei tolto come ben sapevo, l'ho hitzato come la merda no vabbè ce l'ho qua sotto ho due di vita la squadra d'attacco ha trovato una bomba lasciala subito non me mi stanno volendo che hanno detto parti diverse, non mi dico niente help me 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 sulle scale di basso l'ultimo nemico rimasto sopra sopra scalle da sdraiato vittoria alla difesa i should've in the head no problem nice now camper scalle is going in what play five man solve in sponchile sponchile di vigile cesarete il veicolo porta sotto porta sotto topato topato ricarico l'arma cambiò il caricatore l'ultimo nemico rimasto cambio il caricatore squadra d'attacco eliminata missione completata l'esplosione disinnescatori online sta tornando? è lo stanzi uno stale blitz scudo L'ultimo è rimasto, l'ultimo è rimasto, eh non lo so Sucs Oh, sucs Oh, sucs Oh, sucs Perfetto l'ultimo è rimasto Grazie a tutti.